Bentornati, bentornati, bentornati. Allora questa è una rubrica che ho deciso di chiamare Pensieri Sparsi. Perché Pensieri Sparsi? Per il semplice fatto che quando si esce da un film, dalla visione intendo di un film al cinema, quindi una nuova visione di un nuovo regista, come appunto in questo caso magari che tu non hai mai visto, che non è mai comparso, eccetera, eccetera, sei sempre titubante, nel senso che non hai un metro di giudizio al di fuori del tuo gusto, anche del tuo percorso cinematografico. E oggi volevo fare qualche pensiero sparso appunto su Martin Eden, film che ho visto grazie a Luca che mi ha invitato al cinema. Siamo andati a vedere questo film, un film che ha tante particolarità, che forse non va compreso appieno. Mi spiego meglio durante questo video. Sostanzialmente il film mi è piaciuto. Ci ho trovato tante cose dentro, forse troppe per quelli che sono gli aspetti di questo film. Sostanzialmente il difetto non è del film, è del fruitore. In questo caso mio. Perché magari vai al cinema, comincia a guardare questo film che è pieno di roba tanta e un pochino ti perdi. La storia centrale ovviamente è di questo marinaio, Martin Eden, tutti a correggere, si pronuncia Martin Eden, si pronuncia Martin Eden, si pronuncia Martin Eden, il personaggio di Jack London. Mentre Martin Eden è questo napoletano che si ispira liberamente al personaggio creato appunto dallo scrittore e qui si chiama proprio Eden. Insomma Martin Eden si innamora di questa ragazza, di un centro sociale più alto del suo e quindi decide di cominciare a studiare in modo tale da essere come lei. Diventa una fonte di ispirazione legata alle sue emozioni, quindi fondamentalmente lui essendo innamorato decide io voglio diventare come te per raggiungerti il più possibile, poi piano piano entrando in questa società che prima non conosceva si rende conto di che cosa significa far parte dell'altra società. Se ne rende conto anche grazie a dei personaggi di contorno che sono molto importanti sia per lui che per il racconto. Probabilmente, dicevo prima, lo spettatore rimane un attimino destabilizzato, disorientato dalla mole di informazioni che riceve durante questo film. Tantissime sono le suggestioni visive, tantissimi sono i mashup tra immagini di repertorio e ricreazioni di altre immagini di repertorio che si fondono con la realtà ma si fondono in una maniera pazzesca perché il dialogo, sto parlando appunto di campi contro campi e queste cose qui, il dialogo tra le immagini di repertorio e le immagini appunto della storia che viene raccontata principalmente sono pazzesche, quindi c'è un'attenzione visiva altissima così come anche la direzione di fotografia è curatissima sotto ogni aspetto quindi a livello tecnico è un film altissimo. Forse, ripeto, il disorientamento del pubblico può essere un lato negativo. È un film che va rivisto diverse volte perché ci sono aspetti sociali, aspetti umani che è un po' la storia che c'è dietro appunto questo film quindi la società che ti riporta all'individualismo qualche scelta visiva un po' telefonata soprattutto nel finale insomma che è un po' il contrario di Gravity perdonatemi questo volo pindarico tutto mio l'utilizzo dell'acqua soprattutto nel finale si rifà anche un po' al primo cinema di Emanuele Crialese ci sono delle cose che magari sono già viste però funzionano bene, non è un vero e proprio difetto del film ecco questo voglio dire forse quando arrivi al cinema a vedere una roba così piena di cose magari, e questo è un consiglio mio se lo andrete a vedere ecco cercate di concentrarvi sulla storia principale perché almeno tutta la riflessione che potrete fare poi fuori dalla sala sarà una riflessione molto più naturale, molto più facile è un mio punto di vista post visione quando sono uscito le mie parole sono state sì però forse va capito meglio mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto sono molto contento di averlo visto e sono stato veramente coinvolto da tutta la narrazione un Luca Marinelli pazzesco non è stato neanche così difficile sul classare gli altri attori che sono molto più in sordina sebbene siano bravi e facciano la loro parte in maniera eccelsa però Marinelli è il fulcro di tutta la storia cioè Martin Eden, si chiama così il film è naturale che il protagonista abbia il 96% di pellicola dedicata a lui quindi ci sono tantissimi primi piani, tantissime emozioni che vengono fatte provare al personaggio tutte belle, tutte molto struggenti lui è bravissimo ripeto, è facile essere bravi quando la sceneggiatura mette in secondo piano tutti i coprotagonisti però questo non è un difetto è anche difficile essere bravi quando il tuo personaggio deve provare tutta quella caterva di emozioni che prova in questo film quindi bellissimi anche i trucchi il trucco di Marinelli che si evolve e che continua a cambiare e anche un po' a rovinarsi bellissimi momenti io sono qui solo per te quando litigano tutti a tavola all'interno della casa appunto della ragazza, della bionda, della sua innamorata però sostanzialmente il film forse ha troppe cose dentro per poter essere compreso fino in fondo alla prima visione quindi il mio consiglio è lasciatevi coinvolgere in maniera proprio spassionata cercate di non andare a sviscerarlo tutto e subito però se siete stati più bravi di me ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti condividete il video se vi è piaciuto questo è Pensieri Sparsi non sono più recensione ma è semplicemente quello che ho visto e quello che volevo raccontare per parlarne con voi qua sotto nei commenti il film è molto bello bravissimo Marinelli bella la regia bella la fotografia complimenti a tutti e al prossimo video Grazie a tutti